Musica Hello! Salve a tutti ci... Salve a tutti ci! Ed eccoci qui in un nuovo episodio di Dead Space con Isaac Allora, mio caro Isaac, che dobbiamo fare? Chiamatrasporto Trasporto danneggiato Quindi andiamo ad aggiustare il trasporto Uh! Grande! Ricaricatore Qualcosa di energia che non ho nemmeno visto Apri! Oh! Dio miro! Come si ricarica poi? Ah, ok, con X Yeah! Grande! Allora, andiamo a uccidere gente Eeeh! Non ci voglio andare in più ad uccidere gente Ok, con questo dal calcio giù Ok Ok, dobbiamo proprio uccidere gente, no? Che è sta cosa? Attivati No Pronto? Ok, è morto Allora Non fai un jump scare Ah! Creepio! UUURURURURURURURURURURURURURURURURURURURRURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURURUR Ahah ah. L'ho detto io non fare un jump scare all'improvviso. Fio di buona don, oh salvi iniziamo a fare questo nuovo episodio kit medico medio come si vede la mappa non si capisce una mazza no no no, un po' che si capisce allora devo andare di là per continuare quindi andiamo di qua per vedere se troviamo qualcosa posso smetterlo, posso non fare più questa serie ah ok grazie questa si che è un'informazione tu smettila di parlare allora io ti attacco perché non si sa mai se poi torni in vita ti spezzo gli arti non si sa mai tutti gli arti perfetto allora continuiamo oh sembra che colpirli al corpo non serva a nulla mira gli arti devi smembrarli questo dovrebbe funzionare ok me l'hanno appena detto però grazie allo stesso che ha detto oh che è il suo spazio aperto gente che viene dal soffitto qua soldi soldi che mi aiuteranno a comprare delle armi per fare sedere a tutti si che è cioè ma non è che tipo sta roba si si rompe modulo di stazzi che che mi ha fatto sono un paura ok modalità mira fuoco ok sembra che quella porta sia in avaria isaac prova a usare il modulo di stazzi che hai appena preso ah ok si vicarica stasi ah ok stasi attack stasi attack ah quadrato yeah grande dov'è che vedo la stasi ah forse è quell'altra cosettina lì non mi piace sta roba ok ok pacca di stasi grazie perché è così calmo non voglio sperimentare allora capito lo salva eh salvato grazie no 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 non si vede una ma no ecco fatto funziona di nuovo tutto grande sono il mago dell'elettronica oh ok oh meno male che non ci sono i gabinetti chiusi c'è sempre uno un jump scare di in quei cosi ok kit medico grazie allora dove devo andare dietro ok però fammi prendere sta robaccia qua a terra grazie andiamo forse non mi conviene come mi ritrovo i mob in faccia improvviso allora oh aspetta qualcosa si può rompere yeah plasma grazie sempre favoribile al plasma uh nuovo posto puoi usare il modulo di stasi con il meccanismo di quel braccio quale braccio ok attivare vabbè ah per rallentarlo per poi passarci sopra probabilmente operazione trasporto che? oh oh che cosa ah uè uè ah ah non hai un altro ah ok assicuriamoci che tu sia morto per bene non si sa mai molto morto mi raccomando tanto morto tantissimo morto perfetto allora ricarica stasi ok grazie devo probabilmente ok assicuriamoci la vostra morte siete mortissimi vero ok non hai più una testa quindi sei mortissimo anche tu sei mortissimo le teste di questi tizi volano dappertutto che c'è qua dentro crediti ok grazie oh 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 muori ma la prendi la pugna la pugna la pugna la sparatoria non lo sapevo scrippio allora la vettura 8 è fuori uso siamo riusciti a portarlo al centro ah è un coso caricatore fuso mi servo un modulo di stati subito se non togliamo questo rossame dal tracciato bloccherà l'intero sistema ok ah sto coso si rompe proprio subito ok quindi devo usare la stati corri grande grande obiettivo sostituzione vettura danneggiata attendere i'm a genius però ricarichiamo perchè non si sa mai oh ciao tizia ok meglio muoversi qualcosa si sta muovendo qui intorno oh va bene corro dove devo andare posso scappare invece di battermi si no non posso ok ok aspetta vediamo se riesco a evitare invece di sprecare i proiettili wow ha 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 grande bear levita tutto che è sta roba che non ho preso prima che è sta roba muoviti preso ok coltizio sta ancora là chiamano ok preso tutto via 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 subito via subito ok grande Oh, 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 che cos'è? Oh, che cos'è? Ah! Ehi, 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 se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere tramite un like e un commento Ma non per quella cosa, un milione di like sono il più figo di tutti Oh, yeah, ma semplicemente perché così capisco se una cosa vi piace oppure meno E grazie per aver visto questo video, ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!